Il mondo dello sport italiano è in lutto per la perdita di un'icona, Nino, una leggenda del basket. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha scosso profondamente i suoi fan in tutto il mondo, lasciandoli attoniti. Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di scoprire chi ci ha lasciati, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Nelle menti dei suoi sostenitori restano vive le memorie delle sue straordinarie imprese e delle vittorie ottenute con le squadre per cui ha giocato nel corso della sua illustre carriera. Nino Cescutti, un vero e proprio mito italiano, ha onorato la nazionale accumulando ben 30 presenze e partecipando a un mondiale e due campionati europei. Con 84 anni, ha rappresentato un punto fermo nel panorama del basket italiano, celebrato per i suoi successi, tra cui il primo scudetto con la Simint a Milano e i due titoli di miglior marcatore del campionato conquistati durante il periodo in cui giocava per la vittoria Pesaro. La sua prematura scomparsa è stata causata da un tragico incidente stradale, avvenuto vicino all'ospedale Cittadino mentre Nino attraversava la strada sulle strisce pedonali. Nonostante i soccorsi immediati, purtroppo è deceduto poco dopo essere stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Secondo le ultime informazioni delle Forze dell'Ordine, il ricordo di Nino rimarrà indelebile nella storia dello sport italiano. Ti ringraziamo per averci seguito. Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video per esprimere la tua opinione e a iscriverti al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto.